In Polonia la battaglia sulla giustizia si sposta in Parlamento. Dopo le proteste degli ultimi giorni in oltre 150 città del paese, in aula è cominciato il dibattito sulla legge proposta dal Partito di Governo, Diritto e Giustizia, vista da molti come un tentativo di mettere il bavaglio ai giudici. La normativa prevede infatti sanzioni che arrivano fino alla rimozione per quei magistrati che esprimono delle critiche sulla riforma del sistema giudiziario. I giudici in questo modo vengono trasformati in criminali, accusati di avere commesso dei crimini solo perché osano prendere decisioni secondo coscienza e in base alla legge, alla Costituzione e ai valori dell'Unione Europea. Il governo difende la legge sostenendo che si tratta di una misura necessaria per mettere un freno alla crescente anarchia del sistema giudiziario. Questa legge protegge lo Stato di diritto e si oppone al potere dei tribunali, che sta causando allo stesso tempo caos, anarchia e illegalità. Qualche giorno fa la Corte Suprema polacca ha lanciato l'allarme, avvertendo che i contrasti con Bruxelles sulla riforma, accusata di mettere in pericolo lo Stato di diritto, potrebbero causare in futuro l'uscita della Polonia dall'Unione Europea. Ci troviamo davanti ad una legge Bavaglio, che metterà fine una volta per tutte alla divisione dei poteri in Polonia, violando un principio fondamentale della civiltà occidentale. Secondo la Corte Suprema, la normativa sotto esame punta a permettere al presidente Duda di nominare un nuovo capo della Corte prima delle elezioni presidenziali di maggio.